Un racconto di accoglienza ed incontro tra culture e popoli diversi attraverso 20 bandiere, create con i legni raccolti sulle coste di Pantelleria, provenienti dalle imbarcazioni utilizzate dai migranti, distrutte e restituite dal mare. Da una piccola isola nel mezzo del Mediterraneo nasce così un forte messaggio di accoglienza e unione. In occasione di Palermo Capitale della Cultura 2018 e in contemporanea con la Biennale di Arte Nomade Manifesta, lo spazio morettino ospiterà nel cuore del proprio sito produttivo la mostra Flags Mal Mediterraneo dell'artista di Pantelleria Nino Raso, un progetto che punta i riflettori sull'integrazione tra i popoli, raccontando storie di guerra e sogni infranti, ma anche di speranza, di salvataggi e di una vita che malgrado tutto continua. Un'idea nata come progetto ecologico di recupero di materia prima e diventato poi qualcosa di più grande. Dalle mie passeggiate sulle scogliere, dopo le mareggiate, andavo a raccogliere dei frammenti prima di plastica, poi cominciavo a trovare sempre più legno proveniente dalle barche dei migranti. Da questa l'idea di creare qualcosa che andasse oltre l'ecologia e riguardasse un pochettino anche il sociale. Ma il Mediterraneo significa Mediterraneo malato, quindi racconta di un Mediterraneo malato sia dal punto di vista ecologico che sociale, con tutti i problemi che conosciamo. Arturo Morettino dell'omonimo Spazio Espositivo. Una mostra che contiene tanti valori. L'amore per la propria terra, l'amore per il proprio lavoro, la voglia di trasmettere un sentimento che è insieme una promessa di accoglienza la realizzazione di un sogno. Flags Mal Mediterraneo, patrocinata dall'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati, è inserita nel calendario di eventi ufficiali di Palermo Capitale della Cultura 2018.